L'evento ha uno scopo importante che è quello della sicurezza sul lavoro, sicuramente come da programma ci saranno altre iniziative per tale scopo, per cui noi rimaniamo in contatto, questa che si è verificata qui oggi, questo quadrangolare, è solo l'inizio di tutta una serie di eventi. E' un progetto importante che noi promuoviamo sul nostro territorio, siamo assolutamente favorevoli che ben venga avere anche tante altre opportunità per promuovere queste cause ed altre altrettanto importanti.